Uomini e donne, chi è Carlo Alberto, il di Nicole, il 30enne vive a Ravenna. Carlo Alberto Mancini è il nuovo corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Nonostante sia giunto nel programma da pochissimo tempo, il 30enne è già riuscito a conquistare la tronista con il suo corteggiamento all'antica F2 e è già scattato un bacio passionale. Carlo Alberto è uno dei nuovi volti del trono classico. Il ragazzo è giunto a Uomini e Donne da poche settimane e lo ha fatto per conoscere l'atronista Nicole Santinelli. Al momento non si hanno molte informazioni su di lui. Si sa che ha deciso di chiamare la redazione del programma spinto dalla mamma. Proprio la madre. Vedendo Nicole in tv, ha invitato il figlio a provarci. Attualmente vive a Ravenna e lavora come personal trainer. Ha anche un suo studio in cui si occupa di programmi fitness. Si è laureato in giurisprudenza e sta studiando psicologia. Carlo Alberto è un ragazzo molto elegante, con dei modi di fare all'antica. Ha i capelli scuri e gli occhi nocciola. Il 30enne ha colpito il pubblico elatronista, sia per l'aspetto fisico che per i suoi modi di fare. Il suo corteggiamento verso Nicole è fatto di molte attenzioni e carinerie, proprio come avveniva una volta. Ha dato l'impressione di essere sin troppo perfetto e, per questo motivo, è stato attaccato da Tina Cipollari. L'opinionista è infatti convinta che nasconda qualcosa. Carlo ha rispedito al mittente queste accuse. Ribadendo di essere molto serio, romantico e senza maschere. Parole che hanno convinto Nicole. Alla quale piace molto l'atteggiamento di questo corteggiatore. Già dalle prime esterne, il pubblico di uomini e donne, non ha potuto fare a meno di notare il feeling tra i due. Sarà Carlo Alberto la persona giusta per Nicole? È ancora presto per dirlo, visto che il percorso dell'atronista è solo all'inizio. Dando però uno sguardo a ciò che è già stato registrato, si evince che tra Carlo e Nicole scatterà un bacio passionale. La puntata andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Le cose per Carlo Alberto Mancini sembrano quindi volgere al meglio. Dovrà però vedersela con la concorrenza dell'altro corteggiatore Andrea Foriglio. Anche con quest'ultimo, Nicole si sarà cambiata un bacio. Pare che l'atronista si sia ormai orientata su questi due corteggiatori. Resta da capire su chi ricadrà la sua scelta. Cabe spatiale de pe Andromeda. Ăsta-i celul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude. Dumele tante printre dalea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic, avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text. Pe mafia, parat... Să ne vedem la următoarea mea rețetă.